pasta carciofi e tonno una delizia iniziamo per prima cosa taglio finemente un bel po di cipolla pulisco i carciofi togliendo le foglie esterne più dure e scure rimuovo la parte di sotto e vicino al gambo tolgo le spine cioè la parte superiore divido in due il carciofo e dall'interno tolgo la barbetta poi le affetto finemente e man mano li metto in acqua e limone per non farli annerire poi in padella metto il burro una volta sciolto metto le cipolle le acciughe sott'olio e faccio cuocere per un paio di minuti poi metto i carciofi regolo di sale aggiungo l'acqua bollente copro e faccio cuocere per 15 minuti a fiamma alta poi sarò l'acqua metto la pasta e quando sarà al dente la trasferisco in padella e la faccio insaporire bene facendola saltare mescolando poi spengo la fiamma metto il tonno mescolo e faccio saltare metto il pepe ed eccola qui buon appetito